Comunque io se non gioco, non riesco a vivere. Ciao Vogue, sono Lodi. Oggi mi preparo per la sfilata di Andrea D'Amo. Vieni. Lo show mi piace perché il designer può raccontare una storia, i vestiti, la scelta della musica, la scelta della location. Entri nel suo viaggio. Quindi questo è interessante. Sono molto curiosa anche perché Andrea sulla scelta della musica è sempre sorprendente. Quindi sono curiosissima. Essendo una sfilata diurna, ovviamente di mattina ho scelto un look casual, comunque unico nel nude, sabbia. Sono tra le mie scelte, i miei colori preferiti, insomma. L'unica cosa che mi piace fare da sola è questa. Oggi non vedo l'ora, sia perché sono una fan di Andrea, sia perché è mio caro amico. E' appena arrivata Alba, la mia stylist e ha portato tutti i look. Quindi metterò, ho due opzioni di look che sfileranno, insomma, dei pezzi che saranno di questa stagione, di questa, dello show di oggi. Mi cambio e torno. Molto bello Danny, però, bello Sparkling, sento forte, ma semplice. E ci siamo in ritardo, andiamo. 12 maggio al forum avevo due look suoi. Uno dell'apertura, che era questo body, sempre con gli strass. E mi piace sempre che ci sono tutti l'air e che c'erano l'arcinfo ovunque. Vedremo per le prossime cose. La sfilata sta per iniziare. Bacio, ciao Vogue, grazie.